Oggi un nuovo video della nostra rubrica su come diventare la versione migliore di se stessi e oggi parliamo di come fregarcene, infischiarcene totalmente dell'opinione degli altri. Quindi se ti trovi in questo video immagino che tu sia saturo, pieno, totale di questi giudizi sulla tua vita e ti piacerebbe imparare appunto a costruire una sorta di armatura, capire come far scivolare via tutta questa tensione, questa pressione, queste aspettative che hanno le persone su di te. Quindi io come sapete non sono una psicologa però mi piace condividere con voi queste esperienze perché leggo tantissimi libri di crescita personale quindi questo è ciò che ho imparato attraverso le mie letture. Dovremmo renderci conto che a volte pensiamo di avere un faretto immaginario davanti a noi, uno spotlight diciamo e pensiamo di essere i protagonisti degli interessi degli altri. Quindi per esempio si va al supermercato e pensi oddio quella mi ha guardato male, oppure sono sicura che mi ha guardato la storia di Instagram perché voleva sapere se ero con lui, se voleva farsi gli affari miei. Ok, calma, è importante capire che a nessuno importa realmente della nostra vita e di ciò che facciamo, ecco, nel nostro quotidiano. Ovvio abbiamo persone a cui importa di noi e deve essere così, però non esistono veramente così tante persone a cui importa realmente di cosa fai nella tua vita privata. Qualsiasi cosa tu stia vivendo adesso di cui tu ti stia preoccupando, ricordati che da qua a dieci anni questo sarà solamente un momento di cui tutti già ci saremmo dimenticati. A nessuno importerà cosa hai fatto a luglio del 2023, a meno che tu ovviamente non lo riporti alla memoria costantemente le altre persone, ma se veramente non c'è un avvenimento come un matrimonio, un evento che coinvolga la gioia di altre persone ed è puramente una cosa legata a te, difficilmente le persone ricorderanno cosa sta succedendo nella tua vita adesso. Questa è anche un po' colpa dei social comunque perché noi tendiamo sempre a pensare che ci siano persone che vogliono farsi gli affari nostri, quindi capire se siamo tornati amici di qualcuno, se stiamo ancora con il nostro partner, se ci siamo diplomati, laureati, se stiamo lavorando e questo porta appunto a crearsi questi scenari totalmente fake nella nostra mente. Ma in realtà veramente l'uomo è ossessionato da se stesso, non vede l'ora di parlare di se stesso. L'argomento preferito delle persone è la propria vita. Quando per esempio incontri qualcuno mentre sei fuori e ti chiede ma tu quanto guadagni al mese, ma tu che lavoro fai? In realtà non è che lo vuole sapere veramente. Magari vuole semplicemente dirti cosa fa lui, qual è il suo lavoro, magari un lavoro di cui va molto orgoglioso e non vede l'ora di dirtelo. Semplicemente questo, non è che per forza alla base ci deve essere una curiosità, una malignità, ecco, nei tuoi confronti. Il giudice più severo sei solamente tu, quindi smettila di pensare che il mondo ruoti attorno a te, che tutto l'universo, tutto si sviluppi attorno alla tua vita privata, perché non è così. E neanche la tua stessa vita ruota attorno a te stesso, perché un giorno avrai dei figli e i figli diventeranno il punto della tua vita. Un giorno avrai una carriera magari molto esigente che richiederà la tua tensione H24 e per te queste cose saranno bazzecole o ci saranno molti altri avvenimenti più importanti. Ricordati sempre che questo è un momento transitorio, quindi quello che sta accadendo adesso nella tua vita fra dieci anni non conterà più. Numero uno, non paragonarti agli altri. L'unico termine di paragone che devi fare nella tua vita è con te stesso. Quindi, per esempio, non pensare eh ma lui però si sta laureando prima di me, è lui però più bravo di me al lavoro, ha avuto questa promozione, io ci lavoro da dieci anni in quell'azienda e non ho ricevuto nulla. Ma cosa significa questo? Ognuno ha una storia, un background. C'è chi raggiunge il successo prima e c'è chi lo raggiunge dopo. A te non deve importare. Si dice che l'erba del vicino sia sempre più verde. Ok, e a te cosa importa? Ti interessa veramente sapere se l'erba del vicino è più verde o meno? Cosa giova la tua vita a saperlo? In primo luogo dovresti essere felice che il tuo vicino abbia l'erba verde perché dovresti essere contento, ammirare, celebrare i successi degli altri perché l'invidia non ti porterà da nessuna parte. Invece essere felice, genuinamente felice per gli altri ti aiuterà anche a capire poi come raggiungere quella gioia anche tu e celebrare il tuo di momento. Poi magari il tuo vicino celebrerà insieme a te. È importantissimo pensare anche che nell'epoca in cui viviamo, in cui tutto è digitale, tutto è fake, molto spesso magari quell'erba è verde, più verde della tua, solamente perché è fake appunto. E quindi tu sei stato tutta la giornata a pensare insistentemente a quella cosa senza poi pensare che era fake, magari era tutto nella tua mente, neanche esistito, capite? Quindi perché? Perché focalizzare la tua energia su qualcosa di così poco conto? Il giardino non è tuo, non puoi andare là a prendere i frutti e utilizzarli come tue risorse. Tu devi curare il tuo di orto, il tuo di giardino, capire quali frutti servono per te, per il tuo giardino, per renderlo ancora più verde, ancora più regoioso, ma non per fare la competizione col vicino, ma con la tua vita, con il tè di 5 minuti fa, di un anno fa. Quindi alla fine del giorno non conta se per essere l'erba del vicino è più verde e la tua energia, se la focalizzi solo sull'altra persona, quella persona avrà successo e tu sarai fermo a pensare, ad analizzare e descrivere le vite degli altri, mentre gli altri avanzano e tu resti fermo. Numero due, non prendere nulla sul personale. Considera che qualsiasi giudizio tu ricevi dal tuo interlocutore in realtà è un riflesso della loro identità. Quindi supponiamo che il interlocutore critichi, non lo so, qualcuno che è sempre in vacanza, tipo influencer, giusto? Ok, magari questo commento deriva dal fatto che lui stesso desidererebbe vivere una vita del genere, quindi avere più tempo per se stesso, più tempo per viaggiare e questo porta a criticare gli altri perché si tende a disprezzare ciò che si vuole. Sapete quando si dice chi disprezza compra? Esattamente questo. Inoltre fregarti nel giudizio degli altri e non prendere le cose sul personale ti aiuterà a creare un ambiente empatico e con più spazio per te stesso, dove non ci sono tensioni, non ci sono liti, quindi puoi pienamente concentrarti su ciò che conta veramente per te. Punto numero tre, trova cosa ha veramente valore per te. Se c'è un progetto di studio, di lavoro, qualsiasi percorso tu voglia intraprendere, che per te valga la pena investirci tempo e denaro, questo è sufficiente per intraprendere quella strada. Non ti deve interessare nulla di quello che pensano i tuoi genitori, i tuoi amici, i tuoi colleghi, perché la vita è tua e sei tu che poi devi viverla. Sei tu che devi studiare ogni giorno quella materia, prendere una laurea in quel percorso. Sei tu che poi devi alzarti tutti i giorni alle otto del mattino per fare quella strada e andare al lavoro e stare otto ore solute su quella sedia. Quindi pensa alla vita che vorresti, non a quella che vorrebbero gli altri, perché gli altri hanno già le loro vite, tu devi pensare alla tua e basta. Quindi evitare anche di fare delle scelte sbagliate nella vita, ti farò risparmiare tantissimo tempo. Trova ciò che per te ha realmente valore e di cui valga la pena investire il tuo tempo. Altro punto fondamentale, smetti di dire la tua opinione se non è richiesta. Lascia parlare gli altri, ascolta il silenzio, aiuta a ragionare, a prendere delle decisioni più mature. Non ha senso litigare con qualcuno che sai che la pensa diversamente da te. Accogli semplicemente l'opinione diversa senza per forza dover avere ragione, altrimenti questo ti porterà a rovinarti il mood, a rovinarti la giornata, a sprecare altro tempo e noi non vogliamo questo, noi vogliamo restare focalizzati e fare le nostre scelte senza essere influenzati da nessuno e soprattutto senza avere energia negativa H24 addosso e delle pressioni, delle aspettative che noi non vogliamo sentirci sulle nostre spalle. Elimina tutto ciò che non ti serve. Quindi supponiamo che ci siano delle persone che costantemente mettono alla prova la tua pazienza, che ti fanno sentire male. Prova ad allontanarti, tagli i rapporti se puoi, oppure se sono per esempio parenti eccetera eccetera, prova semplicemente a frequentarli di meno, non parlare della tua vita privata, sii vago e semplicemente allontanati da questa tossicità, la superficialità, queste cose non ti devono interessare. Quindi semplicemente con garbo cerca di allontanare queste persone e trovare il tuo equilibrio. Altro punto fondamentale, rimpianti. Se ascolterai sempre il giudizio degli altri e lascerai che gli altri prendano le decisioni per te, ti ritroverai davanti una vita piena di rimpianti. Quando sarai anziano ti chiederai chissà come sarebbe andata se avessi preso un'altra decisione, se avessi scelto quel percorso di studi, se avessi fatto questa cosa. Quindi pensa per te stesso, per la tua vita. Memento mori, ricordati che morirai. Quindi è importante fare il punto della situazione e capire che tu ora nel tuo presente prendi le decisioni per il tuo domani. Pensa quanto è importante fare le scelte giuste. E questo ci porta al prossimo punto, ovvero sii te stesso. Sii te stesso sempre. La tua autenticità, il tuo essere te ti rende unico. E questo ti aiuterà a fare tante cose nella tua vita, a distinguerti dagli altri. Nessuno può essere te con le tue imperfezioni e i tuoi pregi. Quindi la tua simpatia, le tue cose, le tue ambizioni ti rendono chi sei. Quindi se hai un'indecisione, per esempio, è ok chiedere aiuto o un parere o qualcun altro, ma non lasciare che il tuo senso di colpa, la paura di deludere gli altri comandi la tua vita. Non etichettarti. Fa molto piacere ricevere complimenti e anche ricevere le critiche. Dobbiamo essere grati per questo. Però bisogna anche capire che questi non definiscono la tua persona, sia nel bene che nel male. Quindi se qualcuno dice che sei la più bella del mondo, non devi montarti la testa e credere che tu lo sia in maniera universale. Se una persona non piace il mio contenuto su YouTube, per esempio, non posso credere che allora i miei contenuti siano scadenti, ma magari può non piacere a quella singola persona. Quindi non etichettiamoci, non creiamoci delle aspettative. Accetta le opinioni come un eco, non come una verità assoluta. Solo tu conosci te stesso, solo tu sai come risulti al meglio, come comunichi al meglio, quando ti senti al meglio, quando ti senti al meglio produci di più, ti senti più motivato. La chiave per fregartene del giudizio degli altri è avere fiducia in te stesso. Se tu conosci esattamente il tuo valore, quanto vali, quali sono i tuoi valori, veramente la tua etica, non ti può scalfire nulla. Perché i giudizi impropri, quindi che non ti riguardano, che non ti descrivono, non possono scalfirti, non possono neanche sfiorarti. Ti faccio un esempio. Se una persona molto fedele, per esempio, nelle relazioni, e il tuo partner si arrabbia e ti dice, secondo me sei una persona infedele, questa cosa non ti tocca se lo sei veramente, se sei una persona che prevede la fedeltà tra i suoi valori essenziali. Perché sai che in un momento di rabbia il partner ha detto questa cosa non vera, che non ti descrive. Quindi quella persona non sta descrivendo te, magari sta descrivendo un suo comportamento. Oppure sei una persona che prende voti molto alti a scuola, hai tutti i trenta all'università e una persona ti dice, ma tu sei un fanullone, non fai mai niente dalla mattina alla sera. Beh, non direi, visto che ho tutti i trenta all'università, non credo proprio che sono un fanullone. Quindi conosci, sai, se tu sai appunto il tuo valore, non ti lascerai scalfire da niente. Quindi questa è la chiave per lasciarsi veramente scivolare addosso i giudizi degli altri. Questo è tutto per il video di oggi, io spero che il video vi sia stato utile. fatemi sapere qua giù nei commenti se c'è qualche qualche argomento che vi sta particolarmente a cuore e che vorreste discutere insieme a me qua su YouTube. Io vi ringrazio come sempre per aver visto il mio video e ci vediamo alla prossima, prossima, prossima. Good night, buenas noches, buon nuit, buonanotte. Buon lunedì! Buon lunedì! Buon lunedì! Grazie.